ma non è colpa di nessuno semplicemente a volte le storie finiscono ma lo so che non lo ami però sei di ligresti e questo ha avuto un peso nella nostra storia o no ha complicato un po le cose ma nessuno voleva rilasciare nessuno davvero non si ti pensiamo ti pensiamo è che eravamo giovani eravamo giovani e non eravamo pronti per una relazione ma perché vigliacchi ma no ma ma non è stata una botte via ma perché dici queste cose ma forse era meglio se non ci vedevamo guarda forse vado vado a un tavolo di lavoro è meglio li facciamo in metropolitana ma non è più bella di te la metropolitana cosa c'entra questo adesso dai sì va bene ci stiamo guardando attorno ok ci stiamo guardando attorno palazzo ancora con palazzo citerio palazzo citerio è un amico va bene siamo andati a trovare un amico vado vado perché meglio così no non possiamo accenderti di blu un'ultima volta non si può fare questo ciao a te ragazzi ciao